Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org L'ultima volta ci eravamo lasciati parlando del principio di universalità della legge naturale. Oggi, come promesso, vedremo invece il principio di immutabilità. Ora, il principio che afferma l'immutabilità della legge naturale deriva immediatamente dal concetto di questa legge. Essendo essa radicata nella natura e per conseguenza nell'essenza stessa degli enti, essa deve avere la fissità e la stabilità che appartengono per definizione alle essenze. Un'essenza non può essere modificata né intrinsecamente, perché una modificazione intrinseca ne farebbe un'altra essenza, cioè un essere contraddittorio, né estrinsecamente, perché nessuna potenza esterna può far sì che un'essenza acquisti delle proprietà o eserciti un'attività incompatibile o solo priva di rapporto con ciò che essa è. Dal punto di vista soggettivo del diritto, noi diremo dunque che la legge naturale non può essere modificata né dal di dentro né dal di fuori. La legge naturale, quindi, è sia intrinsecamente che estrinsecamente immutabile. Vediamo insieme le due tipologie di immutabilità. Per quanto riguarda l'immutabilità intrinseca, possiamo dire che la legge naturale è intrinsecamente immutabile in quanto impone o proibisce delle azioni che sono buone o cattive in ragione della natura stessa. La legge che prescrive o condanna queste azioni intrinsecamente buone o cattive non può mai divenire inutile o dannosa, poiché essa esprime ciò che è buono e necessario alla natura in quello che la natura ha di essenziale e, per conseguenza, di immutabile. Per quanto riguarda invece l'immutabilità estrinseca, dobbiamo distinguere il caso di abrogazione da quello di sospensione o di modificazione della legge. Nessuna volontà può abrogare dal di fuori la legge naturale. Dio, infatti, non può volere che una natura agisca contro la legge che egli le ha data creandola. Una tale volontà sarebbe contraddittoria ed assurda. A maggior ragione nessuna volontà umana ha il potere di abrogare la legge naturale, mancando di potere sulla natura, la quale è ciò che è indipendentemente da ogni volontà finita. Considerazioni identiche bisogna fare, e per le medesime ragioni, nei casi della dispensa, intesa in senso stretto, e della modificazione della legge naturale. Né Dio né l'uomo possono autorizzare l'inadempimento della legge naturale o modificarne i precetti essenziali. Tuttavia, può esservi talvolta una dispensa apparente dell'osservanza di certi precetti secondari, in materia, cioè, di azioni che possono essere definite buone o cattive solo per determinate circostanze o modalità. Così, per esempio, l'atto di uccidere può essere detto intrinsecamente cattivo solo se ingiusto. Quindi, nel caso di uccisione dell'innocente, nel caso dell'uccisione di ingiusta aggressione, noi parliamo di legittima difesa. Mentre la menzogna è cattiva di per sé, in qualsiasi condizione. È quindi evidente che, se in qualche caso vi è una dispensa materiale dalla legge, formalmente questa sussiste immutabile. Ora, la distinzione tra precetti negativi o proibitivi e precetti positivi, cioè quelli che impongono un atto, della legge naturale, permetterà di precisare i limiti nei quali la legge naturale deve essere detta assolutamente immutabile e fuori dei quali può esservi dispensa materiale o eccezione. Vediamo dapprima i precetti negativi. Questi obbligano assolutamente, cioè non soffrono eccezione alcuna, in qualsiasi circostanza, quale che sia il pericolo o il male più o meno grande che può risultare dall'osservanza della legge. Il caso dicesi di estrema necessità se il male consiste nella morte, nella schiavitù o nella privazione totale. La necessità è grave quando vi è rischio di malattia, di diffamazione, di perdita di beni, mentre allorquando il male temuto è ancora meno importante la necessità è chiamata comune. In ogni caso, compreso quello di estrema necessità, la legge naturale si impone assolutamente nei suoi precetti negativi, come in questi casi, non uccidere ingiustamente, non dire falsa testimonianza, non bestemmiare. Infatti, gli atti qui proibiti dalla legge naturale sono cattivi nel loro oggetto e nel fine proprio, cioè intrinsecamente, e non possono perciò mutare natura o malizia, quale che sia l'intenzione di chi li compie. Mai la menzogna, la bestemmia o l'ingiusto assassino potranno diventare atti scusabili. Infrangere questi divieti significa andare contro l'ordine morale essenziale e produrre un disordine che nessun bene fisico potrà mai compensare. Un esempio che spesso i moralisti fanno è il seguente. Se qualcuno ti dicesse che, uccidendo un singolo uomo, ne puoi salvare dieci, sarebbe per te lecito uccidere quel singolo uomo seppur innocente? La morale afferma che non puoi assolutamente uccidere quel singolo uomo anche se da ciò derivasse il salvarne dieci o anche se da ciò derivasse il salvare la tua stessa vita perché quel singolo atto di uccidere un essere umano innocente sarebbe un'intrinseca violazione della legge naturale. Per quanto riguarda i precetti positivi, questi sono gli unici che permettono delle eccezioni o dispense materiali. E ciò per due considerazioni. La prima considerazione è tratta dall'oggetto di questi precetti, oggetto in sé buono e necessario, ma che può diventare indifferente o anche cattivo in ragione delle circostanze. Per esempio, un precetto positivo della legge naturale obbliga a recar soccorso al prossimo in pericolo di morte. Ma, se per portare aiuto si deve mettere in pericolo la propria vita e se, d'altra parte, non si è legati ad alcun dovere particolare, per esempio il dovere professionale tipico dei pompieri che devono salvare la vita delle persone in un palazzo in fiamme, ad esempio, verso colui che è in pericolo, questo precetto positivo può facilmente mutarsi in un consiglio che sarà ascoltato solo da un uomo di cuore. Ci sarebbe stretto dovere, però, se l'astensione equivalesse alla trasgressione di un precetto negativo. Si desume da ciò che i precetti positivi, per il fatto stesso che implicano la considerazione di circostanze, appartengono sempre alla legge naturale secondaria. Ci renderemo conto ancora della differenza essenziale che vi è tra i precetti positivi e i precetti negativi riguardo all'obbligazione, osservando che i precetti positivi prescrivono gli atti di virtù, mentre i negativi proibiscono il peccato. Orbene, è sempre male commettere il peccato, ma non è sempre necessario né addirittura bene compiere atti di virtù. La virtù si deve praticare in determinate circostanze secondo una data maniera, mentre bisogna astenersi sempre dal male. I moralisti sottolineano questa differenza dicendo che i precetti negativi obbligano sempre ed ogni volta, semper et prosemper, mentre i precetti positivi obbligano sempre ma non ogni volta, semper, sed, non, prosemper. La seconda considerazione si ricava invece dal rapporto tra i precetti e il fine ultimo. Con l'osservanza del precetto negativo, l'uomo si astiene dal deviare dal suo ultimo fine, perseverando nell'amore supremo del bene morale, mentre con l'osservanza del precetto positivo, egli tende positivamente e in tale o tal'altra maniera al suo ultimo fine. È assolutamente necessario non distogliersi dal fine ultimo, ma non è necessario tendere positivamente al proprio ultimo fine sempre ed in quel modo determinato. Ora, falseremmo gravemente la nozione di diritto naturale se, dalla sua immutabilità essenziale, quale è stata ora delineata, concludessimo all'immutabilità assoluta delle norme morali. In realtà, lo stesso diritto naturale è suscettibile di variare e di evolversi sotto alcune forme e in limiti che occorre ben precisare. Si comprende facilmente che se vi è un senso in cui il diritto naturale è immutabile, ve n'è un altro in cui il diritto deve essere considerato come sottomesso al mutamento, poiché la natura è insieme immutabile e mutevole. È immutabile nella sua essenza astratta, in funzione della quale si definiscono i precetti primari del diritto naturale. Ma la natura è mutevole e diversa nelle sue forme concrete, storiche ed individuali. Per questo, anche il diritto naturale, nelle sue applicazioni più o meno immediate, si diversifica costantemente, non per alterare la sua sostanza, attenzione, perché questa non può cambiare, ma piuttosto per assicurare la sua permanenza essenziale. Le variazioni che si constatano nel corso dei tempi, per esempio sul modo di giudicare la moralità del prestito all'interesse, si spiegano infatti come altrettanti adattamenti alle circostanze concrete della vita economica e sociale, in vista di salvaguardare le esigenze essenziali della giustizia. Quindi in questo caso, e solo in questo senso, il diritto muta per assicurare la permanenza del diritto. D'altronde, bisogna ammettere la realtà di un progresso generale dell'umanità nella conoscenza delle esigenze del diritto naturale, cioè nell'intelligenza intensiva di essa. Non consiste in ciò il progresso stesso della civiltà? A grado a grado, l'umanità prende coscienza, in modo più preciso e più vivo, di certi aspetti o di certe conseguenze dei principi generali della legge naturale, che fino ad allora erano rimasti nell'ombra, o erano stati prospettati solo come utopie, o ancora erano stati preconizzati da pionieri assai spesso misconosciuti e perseguitati. Si spiega pertanto l'evoluzione che si è prodotta nel corso dei tempi relativamente alla schiavitù, alle norme per umanizzare la guerra, alle forme diverse di giustizia e di solidarietà sociale. E' questo aspetto del diritto naturale che Bergson ha definito morale aperta, cioè suscettibile di nuovo progresso mediante un approfondimento delle esigenze del diritto ed un allargamento del suo orizzonte. Ora, le diversificazioni e l'approfondimento del diritto naturale si attuano in due modi principali. Il primo sotto forma di conclusione e il secondo sotto forma di determinazione. Il primo modo somiglia a quello delle scienze, in cui le conseguenze si deducono dai principi per via di ragionamento. Sotto questo aspetto, il precetto che proibisce l'assassinio è una conseguenza del principio non bisogna far male ad alcuno. Col andar del tempo, diventando la materia più complessa, si interdiranno le pratiche abortive e anche le pratiche anticoncezionali. E poi una riflessione più attenta si chiederà se e in qual misura sono legittime certe attività pericolose per la vita umana. Il secondo modo, quello della determinazione, rassomiglia a quello in uso nelle arti, quando si tratta cioè di adattare un modello ad una particolare destinazione, per esempio la forma generale casa, a luogo di abitazione, o di riunione, o di insegnamento, eccetera. La legge naturale esige, per esempio, che il colpevole sia punito, ma che egli sia punito o in una o in un'altra maniera, per esempio con la reclusione, con i lavori forzati, con l'esilio, eccetera. Una volta anche con la pena di morte. Ciò comporta una determinazione della legge naturale. La prossima volta vedremo brevemente l'ultima categoria di legge, che è la legge positiva, quella cioè emanata dall'uomo. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org Grazie a tutti